Fulvio Falzarano ha lavorato in numerose compagnie di prosa nei più importanti teatri italiani. È stato diretto da Mario Monicelli, Armando Pugliese, Renato Sarti e Giorgio Peresburger. Con l'attore Silvio Orlando, ha preso parte a due atti unici del drammaturgo Peppino del Filippo, Don Raffaele o Trombone Cupido Scherza e Spazza con Marina Confalone e Enzo Cannavale. Con il teatro stabile del Veneto ha preso parte al trionfo dell'amore di Marivo, diretto da Luca De Fusco. Assieme a Roberto Citranna ha allestito due dialoghi e Bilora di Ruzzante. Ha collaborato con Vitaliano Trevisan, affiancandolo nel reading sonoro Drammi Brevi e con il monologo Oscillazioni. Assieme al percussionista Roberto Dani. Per il cinema ha lavorato con Marco Ferreri ed è il sergente venerato Barzotti nel film Le Rose. Del deserto, 2006, di Mario Monicelli. Ha preso parte a programmi televisivi con Renzo Arbore. Era il gonghista di Indietro Tutta? Francesco Paolo Antoni, Gene Gnocchi e a mai dire Iene e mai dire Lunedì. Con Fabio De Luigi, Natalino Balasso e la Gialappas. Nel 2002 compare nel cortometraggio La Scarpa Rossa di Fabrizio Ancillai. Dove interpreta Giorgio, il protagonista. Nel 2010 prende la parte di Mario nel film Benvenuti al Sud e interpreta il medesimo personaggio. Nel 2012 nel film Benvenuti al Nord. Sequel di Benvenuti al Sud.